Ciao a tutti, sono Harry Pado, 98 Channel e sono qui per recensirvi un piccolo breve video della room di tutte le mie armi da sortire. Allora, ho deciso di tenerle tutte esposte fuori dagli scatoli perché come fanno tutti gli altri youtuber. Allora, cominciamo da queste due sedie. Qui ho la Scorpion, la T77, l'MP7 e questo fucile a pompa dell'AGM. Poi qui, appoggiato su questo sifone, ho l'M4, la K47 e il G36C. Poi qui, appeso in quest'angolo qua, c'è il mio PSR-10, i tre fucili a pompa a molla con il 3-shot, tutte e tre a molla, le due Glock, il nostro revolverino, la 45, c'è questo Ingram, il MAC-11 e l'MK23. E qui, progettando dagli acquisti, ho altre repliche che devo assolutamente ricomprare in primis. Questa, la Beretta 92FS dell'HFC, la Desert Eagle, eccola che è il clone della Marui, sempre dell'HFC e l'MP5 della Scema. Magari lo riprendo, però prendo la configurazione A5 perché adesso lo riprendo, magari sarà migliorato internamente perché questo era disponibile già da 2011. Ciao a tutti, alla prossima.